È stato allora che ho iniziato a esibirmi nei Walmart e, sai, ovunque avessimo la possibilità di fare le nostre esibizioni. Non siamo diventati professionisti senza contratto discografico a 12 anni. Una volta ho visto i Jackson 5 e Michael Jackson. Sono tipo, oh mio Dio, appena salito sul palco mi sono aperto completamente e sono diventato un'altra persona sul palco e volevo farlo sempre. Siamo state brave, signore. Non eravamo perfetti, ma siamo stati educati bene. E onestamente eravamo troppo occupati, provando a diventare delle superstar. Davvero, non ci penso molto. Sono completamente libero e posso esprimere e mostrare la mia sensualità senza restrizioni. Posso esprimere il mio dolore, la mia vulnerabilità, la mia forza e tutte queste cose che mi definiscono. Posso esprimere il mio dolore, la mia forza e tutte queste cose che mi definiscono. Posso esprimere il mio dolore, la mia forza e tutte queste cose che mi definiscono. Posso esprimere il mio dolore, la mia forza e tutte queste cose che mi definiscono.